ciao a tutti ragazzi buon pomeriggio e bentornati nel mio canale soprattutto vi parlerò di crisi danno parte oppure opportunità dipende come la vedete voi ok è chiaro che ci sono due crisi in questo periodo quella economica che è legata a quella della salute ok diciamo che stanno andando comunque di pari passo ma quella economica passa comunque passa in secondo piano perché chiaramente non si parla di salute la salute l'ha messa sempre al primo posto ma fonti autorevoli comunque sia ci stanno dicendo che dopo questo periodo si vedrà il vero effetto della crisi economica e sarà devastante ok oltre che la ripresa sarà comunque lenta detto questo il punto è il problema è che la maggior parte degli italiani non ha un piano b non ha una seconda entrata ma soprattutto molte attività stanno ferme adesso quindi non hanno un reddito e non stanno guadagnando ok ora non so se tu stai lavorando o quale sia quale sia la tua situazione economica sta di fatto che da capire che ci sono anche settori in crescita quindi dove c'è crisi c'è anche opportunità quindi tante cose stanno chiuse tante attività stanno ferme ma tantissime stanno fatturando come per esempio stanno fatturando di più con per esempio i supermercati o le farmacie questo perché perché comunque sia questo in questo momento può rinunciare parrucchiere può rinunciare andare a fare una vacanza a comparti magari una macchina nuova agli schizzi con i superflui ma non puoi rinunciare a mangiare ok io ti dirò la mia situazione economica quindi ti ripeto non so se tu stai lavorando io posso dirte che otto anni fa ho intrapreso il mio il mio progetto imprenditoriale nel settore commerciale e che mi permette di avere entrate slegate dal tempo ok quindi entrate di qualità e quindi anche tempo di qualità ok come già detto prima molte attività stanno ferme mentre la mia va alla grande continuando comunque lavorare da casa quindi grazie a chi ha inventato internet si può sfruttare internet finalmente come dio comanda e non per calzeggiare passatevi il termine quindi sfruttiamo sfrutta il web adesso in questo momento come veramente va sfruttato e io mi occupo di benessere quindi cerco comunque di non far arrivare le persone a prendere farmaci anzi prevengo e mi occupo di benessere a 360 gradi e sto selezionando soci in affari quindi business partner ok con cui andare a collaborare a creare la propria rete commerciale sto aiutando molte persone a colmare comunque le carenze nutrizionali appunto non solo in realtà il mio ambito è molto più molto più ampio quindi c'è anche il settore dello sport piuttosto che la settore comunque della pelle e anche del corpo ok come si può come si può aderire a questo progetto si può aderire in due modi non puoi essere solo cliente oppure anche solo pezzo al pubblico quindi tu utilizzi i prodotti o con lo sconto o non semplicemente per stare meglio in salute oppure puoi essere più attivo puoi partecipare partecipare aderire in maniera più attiva e perché no crearti comunque un'entrata extra e quindi che dire dove c'è crisi c'è opportunità come ho detto prima il mondo è pieno di opportunità basta guardare web però occhio a valutare bene quelle quelle giuste perché ci sono anche comunque quelle truffaldine quindi valutate bene personalmente ciò che propongo io è un progetto vincente perché perché sto nel settore giusto il settore del benessere devi comunque mangiare e nutrirti bene perché non si investe nulla quindi puoi aprire la tua attività indipendente imprenditoriale senza investire nulla e questa non è poco non conta da dove vieni quindi il tuo background puoi essere un avvocato puoi essere un casalingo puoi essere un operario qua non c'è nessun problema non mi serve il curriculum ok e poi farlo part time full time ti gestisci tu la tua attività io per esempio questa la faccio come seconda attività come prima faccio il ha detto sicurezza sorveglianza antincendio nei supermercati e o nelle gallerie che adesso poi i negozi sono chiusi comunque sia mi occupo anche delle gallerie ma questa sta diventando anzi a livello economico è già diventata la prima attività perché guadagno il doppio di là e però la faccio comunque part time per la comunque se mi porta via 7 8 ore quindi ok lavorando tranquillamente da casa serve solo il tempo per capirlo per capire questo progetto perché non è un lavoro tradizionale non c'è stipendio fisso non timbri il cartellino e non stai sotto nessuno dipende solo da te da quanto vuoi guadagnare c'è dietro già un sistema collaudato quindi se ti piace comunque anche aiutare le persone e questo è un altro motivo se ti piace aiutare le persone a stare bene è benvenuto ti lascio con un messaggio quindi il mio invito è lascia un mi piace innanzitutto sotto al video fammi sapere che cosa ne pensi fammi domande io sarò qui pronto a esaudire tu e a collaborare con te e a risponderti a tutte le domande e a collaborare con te qualora qualora vorresti capirne di più però valuta mi raccomando valuta fammi tutte le domande possibili perché non ci sono domande stupide ma ci sono stupidi che non fanno domande ok e lascia un like lascia un mi piace contattami o fammi contattare da se conosci qualcuno interessato fammi contattare ok sia che vuoi rimetterti in forma sia che vuoi guadagnare qualcosa o perché no per entrarti una vera e propria entrata economica è stato un piacere condividere questo video con voi mi raccomando mi raccomando mi raccomando valutate 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 questo è il consiglio che che posso darvi sarò qui pronto ad aiutarvi ok bocca al lupo